La scuola di arti marziali cinesi Weisong ha festeggiato dieci anni di attività a Pordenone con una serie di eventi sostenuti dall'amministrazione provinciale. Guidata dal maestro Liu Wei, la scuola conta circa 250 allievi dai cinque anni in su, impegnati in diverse discipline, dal Kung Fu alla box cinese. In questi dieci anni il lavoro che abbiamo fatto con la mia scuola assolutamente non è stato facile perché intanto è un paese nuovo dove non le arti marziali, per cui è solo cinema, film, cartoni, quindi è a livello televisivo. Riportarlo in realtà, poi con una filosofia dietro come Monastero Shaolin che c'è il buddismo, è veramente stato difficile, però come le arti marziali è importante crederci con la tranquillità e con la cuore aperto si porta al successo e siamo arrivati a dieci anni. Ospite d'onore della serata, il monaco buddista Zuzong Fashi, che si è esibito nel grande classico della distruzione della pietra a mani nude, lasciando tutti a bocca aperta. Gli eventi per il compleanno della Weisong School continueranno proprio con un incontro aperto al pubblico con Zuzong Fashi. L'appuntamento è mercoledì 28 dicembre alle 20.30 nella sala consigliare della provincia di Pordenone.